Set di pulizia per sacca idratante. Questo kit serve per pulire le vostre sacche idratanti, ossia quelle tasche aggiuntive in PVC che vengono messe negli zaini o nei camelback. Necessitano di una pulizia periodica, poiché all'interno ci si possono annidare batteri e depositi di vario genere. Questo kit di pulizia è semplicissimo, composto da uno spazzolino principale in sedole sintetiche, corpo in metallo, manicatura in polimero ergonomico, antiscivolo, e la parte più importante, questa, troviamo un piccolo spazzolino per pulire l'invocolo delle valvole, sempre manuale, molto comodo, molto ergonomico, questa parte qua, che è flessibile, fatta ad anello, serve per entrare nel tubo ed pulirlo in tutta sicurezza, dato che è flessibile, per cui si maneggia molto molto bene, e consente una pulizia accurata della propria sacca idratante.